Torniamo in questa serie parlando di beluga, precisamente di un esemplare abbastanza particolare. Ossia H. Vladimir. Il presunto beluga spia di Zio Putin. Questo beluga è stato avvistato per la prima volta sulle coste nord della Norvegia, indossava un'imbracatura fotografica aderente etichettata equipaggiamento San Pietroburgo. Per questo motivo la balena fu soprannominata H. Vladimir, questa imbracatura e la macchina fotografica hanno fatto sospettare che la balena fosse stata addestrata per l'uso nello spionaggio russo. Anche se alcuni colonnelli russi smentiscono l'utilizzo di questa balena come mezzo di spionaggio, tuttavia l'esercito russo ipotizza che potrebbe esser scappata da qualche base marina. Comunque sia, il beluga ha un problema. Vive in un habitat non ideale a quello della sua specie, si incontra nelle acque di Tromso, mentre naturalmente lo si incontrerebbe più a nord e in acque più fredde. A Cadladimir passa anche troppo tempo con gli umani, visto che non riesce a trovare altri beluga con cui poter fare branco. Più volte, infatti, il cetaceo si è ferito per essersi avvicinato troppo alle barche ed è stato curato dalle ONG della zona. Le azioni governative non hanno perso minuti di tempo per creare un piano per salvare questo beluga. Una fra queste organizzazioni chiamato Z1Wall, ha ottenuto il permesso dal governo norvegese per costruire un rifugio ad hoc per la balena. Il tutto verrà costruito se l'associazione sarà in grado di raccogliere circa 285.000 euro. Se ciò accadrà le verrà concesso di realizzare una riserva marina non lontana da capo nord per a Cadladimir. Altre riserve già esistono in zona ma a Cadladimir, a differenza dei cetacei che ci vivono, è capace di procurarsi il cibo da solo e ci sarebbero difficoltà a fargli accettare per lungo tempo quello offertogli dai volontari.